quando si è infilato dove si va a infilare aiuto io mi sento un peso sul mi sentivo un peso sul petto e c'è lui che si è addor... io dormo quando mi sveglio la maggior parte delle volte mi sveglio perché sento un peso sul petto o sulla gola o sulla fronte ecco... mi sono svegliato così stai comodo? stai comodo maschista? stai comodo cosi? stai comodo cosi? senti un po' domani notte dove... cioè domani quando mi sveglio dove... dove... dove cazzo ti sarai messo? non l'ho capito cosi... stai bene? mi usitevi benissimo... e mi bacio bacio papo bacio papo scendi ora 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 ti metti lì ecco ora si mette qui un miracolo assisti domani andò quando domani mi svegli dove ti sarai messo? non lo so non lo so in testa nel cappuccio cos'è? eh? poi mi sono andormentato con la felpa tra l'altro vabbè la maggior parte delle volte mi sveglio così che lui da qualche parte un fronte o addosso in questo caso gliela fi passo il petto infatti mette un cardo e la madonna ecco perché era ecco